Per il giorno 11 agosto la Giamburrasca organizza un grande evento, un grande concerto, la Giamburrasca Festival a Marotta in Piazza dell'Unificazione a partire dalle ore 20 e 30. Faremo una Giamburrasca dedicata al grande autore Mogol che sarà presente anche lui per tutta la serata sul palco. In questa serata ci saranno degli ospiti importanti i quali Mario Lavezzi, poi ci saranno i musicisti di Lucio Battisti, Gianni Dallaglio e Massimo Luca con i quali io collaboro e suono in un progetto che si chiama Il nostro canto libero ed è un progetto suonato e raccontato per il grande artista Lucio Battisti. Poi abbiamo anche un comico di Zelig del duo idea Adriano Battistoni che è un comico che interpreterà alcuni brani scritti da Mogol stravolti nei suoi testi divertenti e un bravissimo chitarrista tra l'altro anche un bravo cantante. La Giamburrasca Festival si muoverà in questo senso, ci saranno diversi cantanti della zona e anche da fuori territorio che interpreteranno le canzoni, alcune tra le canzoni più famose di Mogolla e queste canzoni verranno commentate dal grande maestro intervistato dall'editore della numero uno, tra il socio, dal socio della questa famosa casa discografica chiamata numero uno che era la casa discografica di Mogolla, Battisti e Franco Daldello che sarà l'intervistatore della serata. Sarà una serata abbastanza lunga ma importante e anche coinvolgente. Io sono convinto che ci sarà una marea di persone e vi aspettiamo.